La Coffee Coalition Slow Food sulla questione del caffè è una alleanza tra i diversi protagonisti della filiera. Dialogare all'interno di questa comunità e realizzare forme di eguaglianza di diritti e di doveri è uno degli obiettivi principali di questa coalizione. Lavazza è sempre stata pioniera nei modelli di intervento a livello sociale, ambientale e economico quando si è trattato di mettersi in gioco e cercare di organizzare delle attività a largo impatto. Oggi la Coffee Coalition rappresenta un modello all'avanguardia che mette insieme tutti gli operatori della nostra filiera del caffè, dai produttori fino ai consumatori finali. Il ruolo di Lavazza dentro questa coalizione è per me molto importante perché questa grande azienda accetta la dimensione del dialogo, del confronto e l'esigenza di rispetto di tutte le componenti di questa coalizione. Il nuovo momento storico ci chiede proprio questo, passare da un'economia della competitività a un'economia della cooperazione e della condivisione. Siamo lieti di poter dare così il nostro contributo alla sfida globale per cercare di migliorare le condizioni sociali, ambientali, economiche del nostro paese e di vastissime fasce della popolazione. Noi avremo l'esigenza di mettere in essere una transizione ecologica all'interno della quale una rilevanza importante ce l'ha anche il modo di produrre, di distribuire, di consumare. È fondamentale per una nuova idea di prodotto che sia a tutti gli effetti buono, pulito e giusto. Il ruolo dei consumatori è fondamentale in un contesto di sviluppo verso un mondo più sostenibile, consumatori consapevoli che investano in quello che noi facciamo e quindi siano disposti ad approfondire con consapevolezza le tematiche più importanti e nello stesso tempo aderire al nostro progetto cercando di privilegiare tutti quei prodotti e quelle produzioni che sono rispettose ovviamente dei grandi principi che il manifesto porta con sé.